Si svolgerà nel quartiere fieristico di Migiano la prima fiera pugliese dedicata al lavoro. Arriva Expo Job Lavoro e Economie Territoriali. Expo Migiano, ormai affermatissimo brand, si apre dunque anche al mercato del lavoro e offre ai cittadini la possibilità di incontrare le aziende che sono in cerca di figure professionali. Tre giorni, dal 18 al 20 maggio, durante i quali 122 aziende proporranno oltre 700 posti in ogni ambito. Questo è un momento importante, ci consente di poter fare un'analisi completa delle necessità nel mondo del lavoro nel nostro territorio e nello stesso tempo offrire una reale opportunità in una tre giorni molto intensa. Le categorie maggiormente richieste sono quelle nel mondo del turismo, ma non va nemmeno sottaciuto una possibilità per gli amministrativi, per chi nel campo della tecnologia, nell'alta tecnologia, ma anche nella ricerca di ovviamente personale tecnico qualificato, ingegneri, geometri, ma le opportunità sono veramente per tutti, anche nel mondo sanitario. Expo Job è l'occasione per essere collocati nel mondo del lavoro, un'opportunità per quanti siano in cerca di un'occupazione e abbiano bisogno di orientamento per trovare la propria strada professionale. Il lavoro è certamente un problema invalidante per la crescita e la ricchezza di questo territorio e quindi siamo partiti da lì. Qual è l'esigenza di quest'epoca? Il lavoro e quindi che cose le istituzioni possono dare, possono offrire per poter restituire ai cittadini una prospettiva? Una fiera, un incontro tra la domanda e l'offerta. Per la prima volta in Puglia, al netto di tutti i job day, di tutte le fiere sul mercato del lavoro che vengono realizzate in Puglia, per la prima volta abbiamo avuto l'occasione di lavorare insieme agenzie per il lavoro private, ARPAL e comune di Migiano. Questa è una grossa novità che va patrimonializzata, messa a valore, replicata in tutte le città, in tutti i paesi della regione.